cosa ne pensa dei giovani d'oggi? della gioventù che c'è in questo periodo? la gioventù di oggi è un po' sballata per dire la verità un po' sballata perché si è andata a fumare si è andata da due ore di bevanti e ci hanno colpito perché i pochi hanno delle macchine ma se non è che tutte le strade si è andata a fare qualcosa e c'è uno sconfitto che non sa più e mi metterò le cose a posto vorrei sapere se lei legge il giornale il giornale ogni giorno me lo ripasso tutto completamente tutte le storie di grande importanza da un lato fa piacere quelle buone storie ma ci sono delle storie che sono ora nel giornale di la Friere del 27 qual è il giornale che leggi? la Sicilia è quello di Siracusa e la Sicilia è quello di Siracusa ah la Sicilia di Siracusa il mio articolo il mio articolo è questo qui nessun sei e nessun cinque bevanti questa è la mia speranza che io ci voglio lasciare a tutti i sei tutti ricchi perché ora ci sono libri buoni da mezzo qua ce ne hanno altri tre uno che sta venendo il due da pieno qual è la trasmissione tv che le piace in televisione qual è il programma che le piace di più? il programma? io ho usato un po' guardata della televisione mi piace qualcuno così da fare cose serie di politica a noi di politica a noi non ci interessa niente cose ripetentate a noi non ci interessa perché a 103 anni vuole dire anche lui le piace anche leggere libri? le piace anche leggere libri? si si per questo sono apposto insomma li definisco sempre ho letto ma maggiormente io mi sono dedicato sempre alla meccanica che genere di libri e ragia? libri? ho letto la letta valegra ho letto i promessi sposi parecchi libri ma maggiormente io mi sono dedicato alla meccanica che scuola ha fatto? io ho fatto la quinta però la quinta di allora vedete che è stata ho dei diplomi della classe ho fatto la quinta che ho otto patenti macchinista della policelle dove si trovava la scuola? è stata la mia fortuna il direttore il direttore ho saputo che il direttore non è stata di fronte a chiesa di San Paolo c'era un pettetto di fronte a chiesa di San Paolo e di fronte alla chiesa c'era un pettetto c'era un pettetto e allora il direttore si chiamava il direttore non lo sapete il direttore era fuori stietro e era alle quattie le quattie da sopra era molto più forte c'erano molte persone in questa scuola molti ragazzi si si poi c'era un altro il professore Leone ma quello che si faceva la scuola di noi era il professore Falina gli faceva la guida il professore Leone l'ha fatto prima la faceva prima nel professore Leone tutti i professori alla scuola poi c'era qua tanti bambini in classe si ce n'erano 30-40 per ogni scuola per ogni classe ogni classe c'erano bambini abbondanti ogni classe c'erano bambini abbondanti per ogni classe per ogni classe per ogni classe